Domani prenderà al via in tutta Italia la manifestazione di protesta Io Apro. Al momento a Pesaro la soluzione proposta e lanciata dall'imprenditore Umberto Carriera non sembra decollare. Infatti molti ristoratori hanno deciso di non aprire. Umberto Carriera, promotore dell'iniziativa Io Apro, che vedrà aprire domani sera in tutta Italia i ristoranti anche per cena, non ha ancora fornito la lista degli aderenti all'iniziativa. Gli organizzatori parlano di 50.000 adesioni in tutta Italia, ma a Pesaro ci sono già decine di ristoranti appartenenti al gruppo Reca che non hanno alcuna intenzione di aprire. Anche chi condivide la stessa filosofia di pensiero di Carriera alla fine terrà chiuso. Io sono completamente schierato con le idee di Umberto Carriera. Condivido tutto quello che ha detto, ci sono alcune cose che non condivido, dei modi, ma in linea di massima sono d'accordo con lui. Lo accusano di aver sbagliato, ma per sbagliare bisogna che fai. Certo, chi non fa niente non sbaglia, chi fa sbaglia. Io personalmente, per motivi miei personali, ancora non sono sicuro cosa fare. Deciderò tra stasera e domani. L'iniziativa, che inizialmente sembrava aver preso piede attraverso un tantan mediatico, a Pesaro non sembra decollare. Qualche ristoratore non condivide le modalità della protesta, che a tutti gli effetti va contro le regole imposte dal governo. Noi nei nostri gruppi, come gruppo Reca, abbiamo deciso di non partecipare, assieme ai ristoratori, perché noi vogliamo aprire. Noi vogliamo aprire anche domani, perché abbiamo esigenza veramente di lavorare, che siamo una delle categorie più colpite. Non dareiamo a questa manifestazione solamente per il fatto che vogliamo aprire senza incorrere in multe, in sanzioni, in provvedimenti penali, perché risulteremo veramente cornuti e mazziati due volte. Vogliamo aprire perché è nostro diritto al lavoro, lavorare. Abbiamo bisogno di lavorare perché questi ristoratori non ci stanno aiutando per niente. Siamo veramente, come si dice, alla canna del gas. Noi abbiamo bisogno di aprire nella legalità senza dover soffrire, senza dover avere la paura di multe, di sanzioni che veramente possono creare altri problemi oltre a quelli che abbiamo. I circoli non sono più quelli degli anni 80 e 90. Adesso la maggior parte dei circoli, più del 90%, hanno proprio all'interno delle aziende, perché hanno fatto la scelta di mettersi in regola come bar e quindi sono doppiamente colpiti, perché hanno dei ristori minimi, come tutte le attività, pagano le tasse come un bar normale, però almeno come gli altri bar, effettuare il lavoro da bar, perché così non riusciamo veramente più a stare in piedi, siamo veramente allo stremo delle forze.